Ciao a tutti, sono Simona Bellone, presidente dell'Associazione Culturale Carte di Millesimo in provincia di Savona. Per il Festival Carte delle Arie 2017 partecipano numerosi artisti da tutta Italia e vi leggerò i loro componimenti che ci hanno avviato, uno per autore. Vi prego votate la poesia, il racconto, il like o il libro che più vi piace, sia in Youtube che in Facebook. I migliori componimenti riceveranno il 30 luglio 2017 presso il comune di Millesimo in provincia e Savona il Festival Artino, un'opera artistica a loro dedicata. Vi prego ascoltate, vedete i video, votate e riguardateli perché contano sia le visualizzazioni che le votazioni. Grazie, buon ascolto. Stelle di ghiaccio di Erosnava di Brescia Falene Quante falene vidi nel crepuscolo d'oro, foriere di destino, le selve a fiorechino. Fatue ali di seta riflettono la luna, la signora del riso, del candido sorriso. Una nuvola cala con un soffio di perla, che è dolce come il miele, amara più del fiele. Nelle notturne spire la beffa la malia. Il veleno del cuore ti offre il nudo amore. Il falco Là, sui declivi della valtrosa, volteggia il falco, la preda cerca. Celesti spire sul dolce vento, più chiaro il nembo, nel piano sperso. D'un tratto un tuffo nella radura, travolge l'esto un'altra vita. Nell'aria preme potente l'ala, sull'aurea serpe il ferreo artiglio. Poi giuradente all'infinito, tenace geme a valle un nido. E fu un presagio che al cuore disse, chi mai sarà la vera preda? Salento. E vidi le pietre acerbe e paglierine, l'argento e obarocco nella città del leccio. Lambiva il plenilunio le cale rocciose, ad otranto l'onda nel lontano ricordo dell'orida cripta. Danzava lo scirocco nella vite dell'ulivo, sulle vigili torri delle aspre masserie. Nell'impido cielo fra il cisto e il lentisco, salivano imponenti all'altare di Castro e le mura di Ugento. Le candide sabbie tingevano lo ionio, l'isola rupestre di Gallipoli la bella. E vidi gli amanti, nell'incanto di un giorno, contemplare il sole che nasce dal mare, che tramonta nel mare. Festival Carti delle Arti 2017 Ciao a tutti, sono Simona Bellone di Millesimo in provincia di Savona. Vi invito all'ascolto delle opere partecipanti al Festival Carti delle Arti 2017. Votate i video in Youtube e le foto in Facebook, nel pagina ufficiale dell'Associazione Culturale Carti. I migliori componimenti riceveranno il Festival Artino 2017 presso la Sala Consigliare del Comune di Millesimo, in provincia di Savona, il 30 luglio. Le votazioni vanno dal 1 al 20 luglio. Mi raccomando, votate e buon ascolto a tutti! Buon ascolto a tutti! Grazie a tutti.